La macchina era tutta in tocchi, mi sono in piedrita. Un impatto fortissimo, un incidente, costato la vita Giuliana Lima, una ragazza brasiliana di 24 anni, da pochi mesi, residente a Quinto di Treviso. L'incidente è avvenuto domenica, verso le 21.30, in via Frusta, a Salzano, all'angolo con via Villa Tega e via Valli, poco distante da Noale. Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo, ribaltandosi e finendo la sua corsa qui, proprio sulla rete di questa abitazione, sradicando il pilastro. I due ragazzi a bordo dell'auto, il conducente 36enne e un'altra ragazza di 24 anni, sono ricoverati in gravi condizioni. A terra si vedono ancora i segni del tragico schianto, macchie di sangue, qualche moneta probabilmente uscita dal mezzo, una mascherina. Sul posto sono giunti da mestri i vigili del fuoco insieme al personale sanitario del 118, chiamati dai passanti che hanno visto l'auto capovolta. I pompieri hanno faticato per riuscire a liberare i due ragazzi rimasti incastrati tra le lamiere accartocciate e una volta estratti sono stati presi in carico dai sanitari del SUEM che li hanno portati in ospedale dopo averli stabilizzati. Per Giuliana invece non c'è stato nulla da fare. Da poco si era trasferita a Quinto di Treviso, prima viveva con la mamma a Spinea dove si svolgeranno i funerali.